Se siete possessori di una Tesla Model 3 come la mia o anche Model Y sapete benissimo che nel periodo da qui in avanti diciamo primaverile estivo si va a soffrire il primo fra tutti è la presenza di un tetto completamente a vetro che benché schermato e benché scuro fa comunque passare i raggi solari e quindi riscalda tanto l'abitacolo all'interno. Oggi però vi voglio far vedere anche un'altra soluzione che possiamo adottare con i sedili visto che al momento solo chi ha la Model 3 Highland ha i sedili ventilati chi ha la Model 3 come la mia o la Model Y non abbiamo i sedili in pelle non ventilati. Quindi una delle soluzioni potrebbe essere quella di andare ad adottare questa tipologia di cuscini sopra al sedile. Se si vede bene dalla telecamera vedete che sono traforati trasparenti adottano un cuscino annidodate diciamo quantomeno permette il passaggio dell'aria e non come il sedile originale che veramente trattiene anzi amplifica molto di più la sudorazione perché non traspira. Questi vedete che sono ecco faccio passare la mano dietro per rendere bene l'idea sono trasparenti traspiranti e hanno anche un discreto spessore quindi sono in grado di migliorare non è che diventa un sedile ventilato con tutti i vantaggi che si possono avere da un sedile ventilato però comunque aiutano a traspirare e quindi diciamo migliorano di molto la sensazione. Si possono avere sia per i sedili anteriori solamente che anche il kit completo con anche i sedili posteriori io all'epoca avevo comprato solo questi per i sedili anteriori e sono composti dalla seduta e dallo schienale. L'installazione è veramente semplicissima per quanto riguarda la parte sopra la parte superiore c'è questo gancetto che va passato attraverso il poggiatesta mentre per quanto riguarda la seduta ci sono questi ganci che vanno nella parte anteriore del sedile questi piattelli invece vanno infilati qui per quello ho mandato un po' più giù il sedile perché è un po' più agevole basta farli passare all'interno tra la seduta e lo schienale stesso vale per la seduta i piattelli vanno incastrati sempre lì infilando prima la parte sotto e poi quella sopra si fa meglio quindi prima sotto e poi lo girate eccolo qui vedete che non viene più via perché non so se dal video si vede bene e la seduta poi questi gancetti che vanno sotto al sedile tac e tac ecco capite bene che qui la situazione migliora di parecchio perché non sei più a contatto direttamente con la similpelle onestamente come si è sempre detto uno dei difetti più grossi di queste Tesla è la presenza di questi sedili che veramente non fanno traspirare assolutamente nella pelle nei tessuti e quindi diventa un disagio d'estate veramente con questi quantomeno si va a migliorare questa situazione con una spesa tutto sommato ragionevole vi lascio tutti i link in descrizione